Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Via Torre a Latiano, un'opera fortemente voluta e sollecitata dal consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Bruno. L'intervento di riqualificazione prevede la realizzazione del manto erboso in erba sintetica, oltre alla ricostruzione della tribuna ormai inagibile da anni. Il nuovo impianto sportivo sarà dotato anche di una pista d'atletica. Con questo lavoro sicuramente diamo concretezza ad un sogno di tanti ragazzi, di tanti giovani, di tanti dirigenti, di tante persone che seguono il calcio e posso tranquillamente dire il sogno dell'intera nostra comunità. Vi posso dire che verrà un bel campo in erba sintetica con la nuova illuminazione a led che stavamo aspettando da tempo, con delle grandi sorprese che non voglio far scoprire nella mia intervista, ma fargli aspettare ai nostri tifosi e farle scoprire con i loro stessi occhi, visto che stanno aspettando da oltre vent'anni la risoluzione del campo sportivo. Nei prossimi giorni intanto è attesa la comunicazione da parte della Regione Puglia del finanziamento di un progetto già in graduatoria per la realizzazione di interventi di abbattimento totale delle barriere architettoniche presenti nell'impianto sportivo. In un paio di mesi, insomma, alla comunità latienese potrà essere consegnato il campo riqualificato, attrezzato non solo per il calcio, un impianto che tornerà ad essere il simbolo cittadino dello sport.